Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove verso Bologna ci sono rallentamenti per traffico intenso tra Calenzano Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Ina 11 per lavori di pavimentazione stanotte in orario 22.6 sarà chiuso il tratto compreso tra Montecatini Terme e Chiesino Zanese in direzione Pisa. Spostandoci sul raccordo Siena-Bettolle per lavori fino al 26 settembre, chiuso lo svincolo di Sinalunga in entrata e in uscita in direzione Siena. Si ricorda che la statale 330 è chiusa in località Albiano Magra nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, per il crollo del ponte sul fiume Magra. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!